Sì, non si dovrebbe mandare qualcuno sulla terra, sono duecento anni che non ci andiamo. Condividere con te una geniale intuizione che ho avuto durante la televisione qui. Mi è capitato mentre cercavo di classificare la donna. Tuzzi, ma dove da me lo capito che voi vi avete di vedere, si intervistano un naturale equilibrato, e si circondano altre cose che voi umani non fate. Vi insediate in una zona e vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce.